Sono il capitano di fregata Marco Pilardi, comandante del pattugliatore sirio della Marina Militare. Abbiamo a bordo 105 migranti, recuperati nella giornata di ieri da nave Zeffiro, trasbordati successivamente su nave San Marco per le operazioni di identificazione e successivamente trasbordati sul Sirio che faceva rientro nel porto di Agusta, proprio designato come porto di sicurezza per lo sbarco. Dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum sono stati effettuati salvataggi di 7.259 persone. Loro sono 105 di origine subsavariana, provenienti da varie nazioni, Mali, Gambia, Senegal, eccetera. Stanno bene, sono tutti uomini, giovani. 14 di loro sono minorenni di età compresi fra i 13 e i 17 anni. Stanno bene, sono tutti uomini.